Ciao ragazzi sono Benni, oggi vi volevo parlare della brillantina Luxina che è stata la brillantina più famosa in Italia negli anni cinquanta, oggi è stata diciamo migliorata e resa disponibile di nuovo sul mercato, vi volevo parlare dell'applicazione, questa qua è una brillantina che innanzitutto non appesantisce i capelli, ne va date in minima dose e va bene per creare andare a stilizzare i capelli su quel look diciamo lucido ma non appesantito che ci dà l'effetto unto diciamo, quindi si dà proprio sulla mano e si va praticamente a distribuire su tutta la capigliatura, ok? Se volete diciamo amplificare l'effetto fate più passaggi senza metterne diciamo in eccesso in un unico passaggio perché rischiate di dosare il prodotto in un unico punto quindi sempre in piccole dosi vedete distribuite sulla mano e andate sempre a distribuire sulle lunghezze punte più che altro in maniera da andare a creare diciamo quello che poi è il vostro stile dato che comunque anche i capelli si stanno allungando questo qua diciamo è un ottimo prodotto da usare quotidianamente, ok? Ciao